Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video. Allora, oggi e domani, intanto scusatevi del casino se lo vedete che c'è lì dietro, ma ho scatoloni, due testi, un computer che devo mettere a posto, insomma, poi nei prossimi giorni sistemo tutto. Intanto, oggi e domani usciranno, oggi per voi è domani, comunque va bene, insomma in questi giorni usciranno due video, questo è un altro video unboxing. Allora, questo mi fa ridere, Cydia denuncia Apple per probabile monopolio. Allora, bisogna spiegare un po' di cose. Cydia è il monopolio. Allora, cos'è Cydia? Cydia è un'applicazione molto popolare fra chi fa il jailbreak. Il jailbreak è, come dice la parola stessa, il superamento dei limiti, imposti nel dispositivo. Sì, insomma, nel dispositivo, questi limiti, imposti ovviamente da Apple, con il jailbreak vengono superati perché viene, insomma, viene bucato il sistema e vengono installate delle applicazioni extra. Cydia è un'app store, una specie di app store, con cui si possono installare questi tweak. I tweak sono dei sistemi che consentono di, sono delle app che consentono di fare cambiamenti anche profondi al sistema operativo. E quindi Cydia è questo tipo di app store. Il monopolio. Il monopolio in economia, un monopolio, è un, 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 una condizione in cui nel mercato opera una sola azienda e questa azienda impone i prezzi come vuole lei molto bene. Questo è il modo semplice, ci sono più cose, ma per fatto è il modo semplice, semplice, semplice. Ok, quindi, parliamo un attimo di questa cosa. Cydia denuncia Apple, Cydia che fa una cosa illegale per Apple, perché il jailbreak è illegale per Apple, denuncia Apple di fare monopolio con le sue applicazioni, con il suo app store. Ora, la denuncia, tra le altre cose, dice che Apple fa un'anticoncorrenza, fa delle mosse di anticoncorrenziali per fare in modo che sui propri dispositivi non si possono installare applicazioni che siano, che non siano disponibili sull'app store. Invece dovrebbe consentire, non favorire, l'utilizzo di app store terzi e far decidere agli sviluppatori quali canali utilizzare. Perché, sì, Apple fa utilizzare dei, come si dice, dei sistemi, insomma, non dei sistemi, dei, come si dice, del, madonna, ora ve lo dico. Fa utilizzare un solo app store per scaricare le applicazioni. Ora, ora, cosa ne penso io di questa denuncia? È difficile, vi dico la verità, prendere una posizione. Perché? Cos'è questo? Ah no, ok, una chiavetta. Perché? Perché sì, la Cydia avrebbe anche, avrebbe anche ragione, però la ragione è che Apple, perché Apple dice, potrebbe dire, ancora non ha fatto dichiarazioni, potrebbe dire, guarda, te compri iPhone e te accetti che su quest'iPhone ci siano delle limitazioni. Ora, questa cosa di denunciare Apple, l'app store, insomma, queste cose qui, è stata fatta anche in Europa. Quindi, sì, via non è la prima. Però, ora, io sono molto curioso di sapere cosa, cosa ne pensa Apple. Cioè, cosa ne pensa Apple e cosa, cosa intende fare. Quindi, ragazzi, questo video termina qua. Se vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al mio canale, se non l'avete ancora fatto. E non, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Feedback, primo, impostazione, esposizione, galle, pausa, fine registrazione.